Dopo le vittorie contro giallorossi e bianconeri Domenica al Meazza arrivano i gialloblu di Verona Inter-Chievo Live match campionato Domenica dalle 13.30 Solo su Inter-Champ Dopo le vittorie contro giallorossi e bianconeri Domenica al Meazza arrivano i gialloblu di Verona Inter-Chievo Live match campionato Domenica dalle 13.30 Solo su Inter-Champ Prova Inter-Channel a soli 4 euro per 7 giorni E poi sei libero di decidere se abbonarti Per acquistare per tutte le informazioni Premi il tasto prima fila del tuo telecomando Vai su sky.it o chiama all'199 100 200 Prova Inter-Channel e poi scegli